...davanti a Soundgare, Celtic Pelli, Flamingo Park, Pride Force, Beverly Hale, Atta Ulpa... ...e tu delante nel silenzio, dopo 300 metri di corsa è un vantaggio in touch, ...davanti a Atta Ulpa, Celtic Pelli, Golden Martin, Beverly Hale, Seniga Ibiza, Pride Force all'inizio della curva, ...davanti a Celtic Pelli, Atta Ulpa, Golden Martin, Beverly Hale, Atta Ulpa, Soundgare, Pride Force, ...poco prima dell'ingresso di lettura, sempre in vantaggio in touch, davanti a Celtic Pelli, Martin, Golden Martin, Atta Ulpa... ...i cavalli e il pano in lettura, con in touch, in vantaggio, attaccato all'esterno da Celtic Pelli, ...seguono Beverly Hale, Golden Martin, Atta Ulpa, Pride Force, e sempre in leggera vantaggio in touch, ...seguono attaccato all'esterno da Celtic Pelli, passa Celtic Pelli, davanti a In touch, Seniga e Beverly Hale, ...seguono sempre in vantaggio, Celtic Pelli, davanti a In touch, Seniga e Flamingo Park. Di 4 cavalli abbiamo parlato, sono tutte le quattro posti, ma quello che è importante è che al primo ci sia la numero 3, ...e Celtic Pelli, Cristian De Muro, la favoritissima, 1.54, 0-9! ... 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